Quello di oggi potrebbe essere il giorno della verità sulla morte di Jennifer Sterlecchini, la 26enne pescarese commessa e neodottoressa in lingue, uccisa venerdì scorso dall'ex compagno Davide Troilo, 32 anni piccolo imprenditore nel settore degli ascensori, da lunedì pomeriggio rinchiuso nel carcere di San Donato, dopo essere stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate nella colluttazione con la donna. Sulla scena del crimine in cui la coppia aveva convissuto per tre anni, la villetta a due piani di via Acquatorbida nel quartiere Fontanelle, sono arrivati i carabinieri del RIS di Roma. La scientifica ha analizzato palmo a palmo sia all'esterno che all'interno dell'abitazione, dove Jennifer era tornata a prendere le ultime cose per chiudere il rapporto con il compagno rotto poche ore prima e da cui non è più uscita viva. Gli investigatori continuano a non essere convinti della versione dei fatti resa la sera stessa del delitto da Troilo al PM Silvia Santoro e confermata nell'interrogatorio di garanzia di lunedì mattina al GIP del Tribunale di Pescara Antonella di Carlo, che ha convalidato l'arresto. Per questo si continuano a cercare tracce e riscontri scientifici che possano supportare l'ipotesi di omicidio volontario, mentre sotto analisi ci sono anche i cellulari dei due ex fidanzati. Troilo ha sostanzialmente raccontato di essersi difeso a seguito di una lite trasformatasi in colluttazione, sfociata in tragedia, quando la ragazza avrebbe afferrato un coltello con cui avrebbe ferito il ragazzo che poi l'avrebbe uccisa. Ci sono elementi però che stridono con questo racconto. La porta d'ingresso dell'appartamento chiusa dall'interno, che ha lasciato fuori in ermi sia la madre di Jennifer che l'amica che l'avevano accompagnata a fare il trasloco. Le due donne infatti hanno assistito impotenti alle richieste d'aiuto della ragazza cercando di sfondare a calci il portone e saranno testimoni chiave. Stesso discorso per il vicino di casa che ha dato l'allarme al 112 e che ha cercato in vano di entrare in casa. Il portone infatti, stando alla prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe aperto solo dopo l'arrivo dei carabinieri, troppo tardi per salvare la vita di Jennifer. Così come il racconto di Troilo, Marsi concilierebbe con le chimosi sul corpo della ragazza e con le coltellate più di una inferte alla ex fidanzata. Aspetti questi che saranno chiariti dall'autopsia all'obitorio di Chieti a cura dell'anatomo patologo Ilvo Polidoro, incaricato ieri pomeriggio dalla procura di Pescara. Esame per alcuni versi decisivo per stabilire sia il grado di crudeltà dell'omicidio che quale delle coltellate sia stata quella fatale.